gloria all'uccellino come sarai con la fine del nipide di noi siamo c'è frank mazzoni snow live no no mi devo mettere i miei calzettoni caldi vabbè uguale ok ragazzi si parte science continuiamo la partita da dove eravamo rimasti l'ultima volta intanto su youtube sto caricando i vari pezzi è stato su twitch vedete in anteprima diciamo ok siamo rimasti il punto giusto perfetto situazione di oggi vediamo se ho qualche incarico aspetta che esiti contatti indaga sulla bara ok ho qualche arma no qualcosa a scaricare no a parte questa bottiglia che te la do subito ok volente come allora lanterna accesa e qui devo parlare anche con lui quindi che facciamo prima allora scusate andiamo subito alla lanterna poi veniamo a parlare con lui questa la tengo con me e questo me lo tengo qua e tu vai a fare un girettore andiamo a vedere la lanterna prima sì ora vengo a parlare con te prima voglio la lanterna però bello ragazzi che gioco mi ritroverete su pc o playstation non solo su questo gioco per ora sul pc mi ritroverete quando comincerà the day before ok un altro punto una finestra questo è l'accesso qui dove è il prossimo uno dei punti dove devo andare va beh fammi la confessione ...of how I got the reserve key. Ombra called me out for omitting a critical detail. I am raising the kid right, I guess. To get the key, I had to hurt someone real bad. A dear friend. I almost killed her. In the moment, it felt like the right thing to do. No question. But I regained my senses for my daughter's sake. I could see her eyes pleading with me from across the room. Stop, mommy. This isn't right, they said. I was ashamed. I had succumbed to what the tower had become under George's influence. A breathing ground for betrayal, forcing people to turn against each other to survive. Sad thing is, I'd do it again, in a heartbeat. Not proud of it, but it's true. There is a line with me, and when it's crossed, it does not matter who you are. I will do whatever it takes to defend what I knew is right. And protect my daughter. So now, you know exactly who you are dealing with, Taurus. No bullshit. Like before, the drawing will point me to the cache. Beyond the location, the next cache must be needed. No clue of what might be in there. All I heard is that it's quite a hall. May. Okay. Thank you, May. 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 prima devo capire la signorina dove voleva che vado ok tutto a posto qui vediamo dove voleva che vado vai alle secche usa il disegno per trovare il depositatore e recuperare le informazioni ok devo capire se queste sono missioni secondarie ma non credo quindi alle secche dobbiamo fare questa roba quasi quasi faccio prima questa poi faccio la tua che tanto sicuramente non sarà le secche la tua che bel disegno di un gattino allora vediamo un attimo la foto devo andare alle secche e il disegno in questione non potrebbe mettere per ultimo il disegno il gatto carboncino non c'entra no 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 forse in cima no no scusa il disegno qual è l'ambra dice ciao no il gatto non è quella qui le secche informazioni le secche questa ok devo trovare questa entrata quindi c'è un filo spinato su una casa con un'entrata che qua ma è per arrivarci sarà una canala vedremo un po ok diamo le secche invece con te dove dovrei andare ci prendiamo anche quell'informazione no prendiamo dopo facciamone una per volta informazione le secche dove sono le secche eccole lì ok andiamo ci vediamo dopo 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 collezionabile siamo assoluto a posto oddio vuol parlare questo dopo dopo facciamo una missione per volta se vado di fuori vaffanculo ok le secche devo trovare quell'entrata le secche ok modus ci mettere un po di più a caricare ok siamo le secche ok il tempo ce l'ho tutto 45 minuti prima del suono però vorrei trovare il tutto un po prima le informazioni che abbiamo sono soltanto quel disegno che non è male tenercelo sotto sotto mano ecco qui ok una casa così andiamo siamo un po in giro vediamo un po ma che cazzo e questi che cazzo sono cazzo ma questi sono armati di brutto ma che cazzo siete voi ma che cazzo ci facciamo oltre questi ci provo due attirati hai vinto te ma non contro di me vediamo se riesco a recuperare delle armi interessanti bello un M fottuto 4 da provare subito oh cazzo è un fottuto M4 ragazzi questo me lo porto me lo porto a casa questo avete qualcosa qui ok siamo riusciti a ammazzarsi i stronzi allora l'entrata devo trovare sono edifici alti questi non mi dovrebbero sparare non lo so cazzo c'è un M4 però raga aspetta M4 ha portato non era male ma qui si spara cazzo oh io no eh forse non mi cagano vediamo se mi cagano non lo sanno che ho ammazzato io i suoi amici eh c'è roba per voi ma che cazzo come è volato quello no non mi sparano vediamo che fanno siamo vicino ehi gente tutto ok guarda i mazzardi tutti menchia che fucili che avete tutto bene? prendo questo screen scusate eh ok preso posso fregare quella una una buona buona come sono cattivi questi io sono tranquillo però se fai il furbetto ti faccio sì cazzo sei pauroso sai che ti dico vediamo se posso prendermi il tuo fucile oh cazzo via 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 quello no no fermo fermo c'è quel cazzo di c'è il casco non vi faccio niente comunque da fare devo stare attento dai cerchiamo una finestra se questi mi vedono sparare i suoi sono cavoli una finestra quella potrebbe essere sembrerebbe proprio lei sembri proprio te posso vedere il disegno? allora due finestre di legno qui una lì eh sì sembri proprio te devo entrare lì dentro non so se questi sono d'accordo questo devo ammazzarlo subito ah c'è un'altra là meglio farla un po' un po' più easy tipo velocemente no no tranquilla tranquilla via 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 che cazzo c'ho un pompa in mano è carico? dimmi che è carico questo strozzo se si è carico faccio un bel botto cazzo vicino a te ti presento il pompa te sei una bella arma quanti colpi hai tre? ma io le ho le cartucce per il pompa andiamo eh già le ho prese durante l'avventura ok li squarto tutti col pompa allora devo entrare in quella finestra ma andiamoci direttamente però mi serve voglio portarmi sto pompa con me ce la faccio con un braccio a tirarmi su sto alzando con un braccio solo non so quanto sia sicura ciao amico veloce Frank devi salire ne ho già senza bene andare Frankie mi faccio andare di là dai Frank entra qua cazzo ok ce l'ho fatta Cristo è il mio coltello qualche colpo qui? due no non ne ho più si è messo male con l'energia due colpi ok un colpo andato questa boccetta è buona? no non sono medicinali ok ok questa ok posso ricaricare le informazioni sono lì prendo quelle e posso andarmene non perdiamo tempo abbiamo già preso un po' di roba interessante queste scariche mettiamocela qui bella questa mi piace che è quella roba? timer da cucina esplosivo figo recuperiamoli ho altre le armi cariche c'era un fottuto m4 questa quattro colpi si sta per danneggiarvelo ok non so potrei controllare ancora tempo c'è? sì passando a quattro d'ora però c'è poca energia rischio perché qui ci sarà qualcun altro in casa sicuro qui ci sarà qualcun altro in casa sicuro eccolo qui per sicurezza per sicurezza attiniamocelo qua va questa qui m4 si può caricare in qualche modo cazzo mettiamolo sul colpo singolo per ora colpo singolo ce l'abbiamo 20 colpi ok figata questa qua raga che facciamoci andiamo energia è poca vuole vedere più che altro se trovava un po' di energia magari un po' di energia in bagno si trova va beh recupero tutto fino a riempirmi dai facciamo un test per quell'esplosione vediamo com'è allora test esplosivo ok timer attacchicina wow sfontano le porte proprio che bel timer rischio ehi dobbiamo andare di qui raga si sta rischiando e non poco passano colpi e mi fanno secco vedete se trovavo un po' di energia migliore questa non è energia basta in pieno me ne vado me ne vado me ne vado che meraviglia è ma che mira che c'ho cazzo ho un mitra questo devo scendere e andarmene buongiorno via 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 chiudi questa cazzo di porta frank ok diamocene scendiamo in silenzio magari cazzo mi sono rotto le gambe qui sono morto qui come un coglione però c'è qualcosa a tornare a prendere va bene torniamo al volo a prendere lo zaino e andiamocene il mio zaino è lì proviamo quest'arma passiamo da dietro stavolta posso riempire lo zaino bella questa si può passare di qui sembra che non mi dice niente me ne vado cazzo non ha visto un po' più ciao amico voglio il mio fottuto zaino bella questa bella questa questa mi piace di chi è questa testa di chi è questa testa di chi è questa testa hai preso anche il pompa che me l'hanno rotto bastardi andiamocene mai e ora basta scherzare c'ho un m4 hai fulbo e c'ho nel mio m4, rompimi le palle si, cazzo scarico, che uso? dai dai vattene fricone non ho altre armi, vien, devo andarmela questa cazzo di porta dai potrei salvarla se la mangiano non ho via 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 dai non roppetemi me ne vado tanto ho finito andiamo a riportare le informazioni a casa belli con gli M4 questi qua ok ciao amico vieni vieni ciao voleva orario 12 e 15 ok vediamo un pazzoletto completata anche questa ho sentito un grido ok questa era per me l'abbiamo completata andiamo a vedere cosa c'è là ora dovremo parlare con la radio mi sa vabbè prima portiamo già le informazioni a me intanto una volta recuperate le informazioni vanno sempre portate all'interno della bara nel nostro sistema di comunicazione tra me e me ok prima di portarle però perchè non mi svuoto lo zaino vabbè la faccio dopo dai ok per te carico aggiornato ok cioè ho richiesto rimborso ragazzi di Arizona sunshine 2 troppo demenziale in conflitto a questo gioco qua questo fa paura addirittura sul fucile Chris posso mettere anche il selettore di tiro e il fucile stavolta me lo tengo qui non me lo porto via voglio iniziare a collezionare un po' di roba ascia complessa armi di qui armi importanti di qua ok sfruttiamo lo zaino e poi parliamo col tizio lei la mia lattina il timer viene sempre con noi molto utile una bomba di queste me la porterei stavolta sono molto carine queste esplosioni non si può bere tastiere ok due esplosivi con me ce li porto certo che una cetta mi farebbe sempre comodo soprattutto perché non ho nulla quindi lasciamo la porta quello lo lasciamo lì invece però più visibile mi piace ok è il momento di parlare con lui ehi non mi parla più si è arrabbiato vediamo un po' che cosa abbiamo da fare carichi allora aspetta che la lanterna si accenda aspetta che case di contatti di nuovo perfetto devo far passare un giorno allora ragazzi facciamoci questa bella bevuta e ci vediamo nel prossimo episodio orario baby dolce venti se la faccio ok ci siamo ragazzi nuovo episodio nuova avventura vediamo come siamo messi qua intanto questo cos'è 50 di resistenza mi dà lo porto via salvato nel diario una foto di una donna ma chi è che mi lascia sta roba intanto abbiamo recuperato l'M4 non so se avete visto lanterna accesa anche vabbè facciamo il radio un attimo sentiamo che si tratta c'è qualcosa che mi preoccupa mi chiedeva se potessi aiutarmi a trovare delle risposte c'è il tempo per queste cose ah certo ci sto cosa vuoi che scopra bisogno di informazioni sulle sorte di chi era nella riserva gli altri membri della mia squadra dove sono andati vicino alla scuola superiore il rampage gli altri tre parlami degli altri tre compagni di squadra che problemi avevano che stai cercando di dire cose orribili che stai cercando di dire che si hanno fatto una scuola superiore ok Kenneth e io non sarebbero bella ma hanno fatto comunque lasciatelo non in mood di andare in pass è pass se wander over rampart high il posto migliore dovrebbe essere la palestra di rampart che è un posto nuovo che ancora non ho visto rampart eccola lì mai stato in quel posto lì andiamo un attimo sulle informazioni comunque del 47 vediamo se dice qualcosa vediamo se dice qualcosa ok questi sono questi cibo confermati il distretto notte in prospettive di recupero bastion no queste sono cose in più secondarie ok torniamo sul 61 palestra di rampart quindi quella ce la possiamo già prendere è inutile la facciamo dopo perché tanto anche se la prendo mi manderà in un altro posto che devo viaggiare quindi adesso ci facciamo questo rampart andiamo alla palestra è una città nuova che mi presento solo con un'accetta vediamo se ho sbloccato qualcosa sembrerebbe ancora io non so come sbloccare tutto il resto devo livellare un po' ma quanto ancora niente livellato questo qui come si fa a fare? mi sembra un bel coltello questo proviamolo dai questo è un bel coltello dovrebbe durare bene bello ok coltello e ascia giusto? ok andiamo rampart la palestra rampart la palestra come si è un bel coltello ok